Andremo in guerra, avete la mia parola. Voi dodici sarete i primi ad andare a combattere. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Vi volete arrendere? State pronti a sparare. Non perderò nessuno dei miei uomini. Ognuno di noi deve combattere contro 4.000 di loro, è impossibile. L'arma più potente del mondo è questa.